ciao ragazzi io sono Fablinker e oggi siamo qua in un video un po' insolito perché voglio parlare delle uscite del prossimo mese per quanto riguarda il playstation plus allora uscirà Orrush e Soma io vi dico solamente che sarà un mese strepitoso veramente un gran bel regalo di natale anche perché Orrush ve l'ho anche portato sul canale per un bel po' di tempo ed è davvero un gioco di corse arcade off road davvero molto molto bello tra l'altro ci ho fatto anche la recensione quindi se volete guardarla guardatela anche perché non ci sono spoiler perché la storia non esiste è un gioco abbastanza arcade anzi molto molto arcade qui davvero un gran titolo veramente un grandissimo titolo l'altro Soma non l'ho ancora giocato ma coglierò l'occasione per giocarlo e portarvelo sul canale perché veramente mi ispira un botto vi dico solamente che è un horror quindi sarà da cagarsi in mano ma davvero tanto anche perché non so quanta paura possa fare quindi veramente sarà davvero devastante però è da tempo che ci guardavo che ottenevo d'occhio e finalmente diciamo gratuitamente diciamo perché non è gratis visto che paghi un abbonamento arriverà sulla raccolta playstation plus quindi tenetevi d'occhio perché è davvero un grandissimo mese secondo me uno dei migliori mesi poco ma sicuro e niente ragazzi vi volevo fare questo piccolo aggiornamento visto che l'ho detto notizia poco tempo fa poche ore fa e sono rimasto davvero molto molto contento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao